Grazie ad un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica di circa 640.000 euro stiamo realizzando nella nostra città tre progetti di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici che riguardano un progetto di forestazione urbana nell'area di Pile e sappiamo in ambito urbano oggi quanto sia importante la presenza degli alberi sia per il contrasto alle sole di calore che per l'assorbimento di anidride carbonica e gli altri due progetti riguardano invece una piazza d'acqua nell'area di Valle Pretara su piazza Campo Imperatore e due Ren Garden anche la piazza d'acqua e Ren Garden costituiscono un aspetto molto importante soprattutto per il riutilizzo dell'acqua piovana, il contrasto alla siccità e alla dispersione idrica sappiamo che l'acqua sta diventando un bene sempre più prezioso e quindi è il nostro dovere impegnarci per cercare di tutelare questo bene nel miglior modo possibile questi progetti riguardano quindi una riqualificazione urbana su aree degradate importantissima con un occhio in particolare a quella che è la transizione ecologica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti